La mia dichiarazione di oggi in commissione bilancio verteva sui giovani medici che purtroppo non gli è stato rinnovato il contratto. Il 29 dicembre abbiamo ricevuto una email da parte del Ministero della Salute che specificava, ringrazzava per il lavoro svolto, ma che ahimè non ci veniva rinnovato il contratto. Siamo più di 100 medici che abbiamo collaborato in maniera attiva durante tutte le fasi della pandemia della Covid-19 in vari uffici del Ministero della Salute, nella sede centrale, ma anche nelle sedi periferiche. Il mio discorso di oggi enfatizzava la volontà di prolungare il contratto di questi medici che hanno contribuito al sistema sanitario nazionale durante tutte le fasi della pandemia della Covid-19.